Ciao Nicolò, con questa testimonianza, questa video di testimonianza, voglio ringraziarti per tutto veramente quello che hai fatto per me. Mi ha aiutato veramente tantissimo in questo percorso come coach. Io sono uscito dalla scuola che non sapevo praticamente da che parte iniziare. E tu mi hai aiutato tantissimo intanto a avere la convinzione di quello che volevo fare, di quello che stavo facendo appunto. Mi hai dato anche un indirizzo. Con te sono riuscito veramente a capire qual era il mio percorso come coach. Quindi mi sono specializzato, ho deciso di scegliere appunto lo sport mental coach perché questa era la mia passione. La passione per lo sport, per il calcio in generale. E quindi mi ha aiutato a creare anche il mio pubblico, a creare il mio avatar, come si suol dire, a capire a chi dovevo rivolgermi, ai famosi appunto atleti. E mi ha aiutato a creare l'ebook, per esempio, che è stata una cosa molto bella come esperienza. Ho detto che a me piace anche scrivere, il mio primo omaggio magnetico. Ma ancora di più, quando ho alzato la sticella perché era il videocorso, è stato ancora più soddisfacente. Anche se all'inizio avevo un po' di rimostranze perché avevo paura di non essere in grado di farlo, semplicemente per quello, perché non ero mai stato in video, perché non avevo mai creato un videocorso. Ho detto, ma cosa potrò dire di così importanti? Invece mi hai detto tanto coraggio, mi hai spinto ad andare oltre i miei limiti. Questa è stata la cosa più bella che mi hai regalato, veramente. Ma ancora di più, perché al di là del fatto che adesso abbiamo creato la nostra campagna marketing, sono molto contento, avevo fatto un sito bellissimo, abbiamo collegato ovviamente i nostri infoprodotti, che è l'ebook e il videocorso. Però questo videocorso ha fruttato veramente una svolta per me, ha dato veramente un qualcosa in più. Perché questo videocorso mi ha aiutato a entrare, a essere formatore del CONI. Ho partecipato appunto a un concorso di mando di selezione qui al CONI Regione Lombardia, perché cercavano dei formatori appunto per un progetto che legasse appunto il CONI alla formazione, per vista le Olimpiadi che avremo qua a Milano nel 2026, e sono stato preso, è stato uno dei tre mental coach che ho preso qui appunto in Lombardia, pochi appunto. Però sono premiato grazie a questo videocorso, perché è piaciuto moltissimo il videocorso sulla gestione appunto dell'ansia del pregara. Bene, questo è un doppio grazie che ti devo dire, perché senza questo videocorso qui, che ho creato con te, non sarei mai riuscito ad arrivare appunto ad entrare nel CONI e avere questa opportunità di lavoro veramente importantissima per me. Quindi questo è solo un esempio vivente di come ci si può arrivare, di come ci si può trasformare e di come se uno ci crede, alla fine avverrà anche la vita che lo aiuta a arrivare a raggiungere i propri obiettivi. Grazie ancora Nicolo.